presentata a Roma presso la Sala Zanadelli e il monumento Vittorio Emanuele II, sito del Polo Museale del Lazio, la mostra Ec es Civitas Mea. La mostra ospitata per la prima volta in Italia è solo una delle prime iniziative nel contesto delle stagioni russe in Italia, le Russian Seasons, un progetto che nel corso del 2018 farà conoscere al pubblico italiano tutto ciò per cui la cultura russa è famosa, il balletto, l'opera, il teatro, la pittura e il cinema. Oggi stiamo a presentare la mostra degli allievi dell'Accademia che porta il nome di Glosnov. Questa è la nostra prima uscita in Europa come mostra. Ovviamente più di una volta abbiamo visitato Roma, l'Italia, conosciamo tutte le pietre sacre della città eterna, conosciamo i musei, dai musei vaticani, anche quelli più piccoli, a volte nemmeno segnalati nelle guide. Noi comunque siamo orgogliosi perché vogliamo far vedere l'arte dei nostri allievi e siamo convinti che questa mostra possa rafforzare il dialogo e la comunicazione tra l'Italia e la Russia, tra la Russia e l'Europa. Come Accademia ci basiamo sulle tradizioni classiche. La nostra Accademia nei secoli, a partire da 300, 200, 100 anni storicamente, si è sempre ispirata alla tradizione classica italiana in primo luogo. Secondo me è molto importante oggi quando viviamo in questi tempi di grandi cambiamenti restituire l'Italia, non solo far vedere, ma proprio restituire agli europei questa arte. Questa restituzione non è soltanto la visualizzazione delle opere, stiamo progettando un'apertura di una facoltà per gli studenti europei. Viviamo nei tempi di modernità rigida, esigente. La nostra Accademia tradizionale, classica, non è soltanto auto-identificazione, è la continuità. E' questo che è molto significativo, la continuità delle tradizioni russe, europee, ma anche in tutto il mondo. Credo che dobbiamo sollevarci in difesa di certi valori, perché devono essere non solo conservati, ma anche protetti. Siamo estremamente felici oggi perché siamo riusciti a realizzare un progetto unico. Siamo qua alla mostra delle opere degli allievi dell'Accademia che porta il nome di Ivan Dilia, che lo scuso, Kuzumov. Questa Accademia presenta le opere dei suoi allievi che si sono diplomati nell'arco degli ultimi 30 anni. La mostra è allestita all'interno del progetto Le Stagioni Russe, idea lanciata dal Presidente e approvata dal Presidente della Federazione Russa. È un'iniziativa che vedrà tanti eventi, mostri, concerti in tutte le regioni italiane. Noi invece oggi siamo felici di essere nel cuore di Roma, al complesso vitoriano. Mi rimane a sottolineare che questa mostra è in memoria del padre di Ivan Glosonov, Ilia Glosonov, fondatore dell'Accademia, mentre Ivan, che è presente alla mostra oggi, è il rete, anche perché lui è il rettore dell'Accademia.